La minore settima Sulla seconda corda dodicesimo tasto abbiamo la nota La che rappresenta la tonica Sul quattordicesimo tasto terza corda abbiamo la nota Mi che rappresenta la quinta sul dodicesimo tasto quarta corda abbiamo la nota Sol che rappresenta la settima minore infine sul tredicesimo tasto quinta corda abbiamo la nota Do che rappresenta la terza minore La minore settima La che è la tonica Do che è la terza minore Mi che è la quinta dominante Sol che è la settima minore Do che rappresenta la terza minore Grazie